Una finestra sul Novecento si apre al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in Piazza San Martino. Protagonisti due pittori lucchesi, Giuseppe Ardinghi e Marianna Di Vecchio, attivi nel periodo storico che si colloca tra gli anni Trenta e il primo dopoguerra, anni particolarmente floridi per il mondo culturale lucchese, sia nell'ambiente pittorico che in quello letterario. E proprio questi intrecci sono il filo conduttore del percorso espositivo, composto da circa 90 opere e diviso in sei sezioni. Abbiamo voluto dare agli scrittori la voce sugli artisti, perché in qualche modo sono loro gli scrittori che parlano di quello che vissero a Lucca in quel periodo magico e che abbiamo voluto riproporre alla memoria e anche per, come dire, uno stimolo a ripensare in qualche modo i valori e la cultura della nostra città e del Novecento. Artista intellettuale che ha portato avanti una lunga e appartata carriera, Giuseppe Ardinghi è un pittore legato ai canoni figurativi del Novecento Toscano, insieme ai suoi dipinti, quelli della moglie Mari di Vecchio, anch'essa originale pittrice, le cui opere sono state esposte, insieme a quelle del marito, in contesti di alto livello, ricevendo grandi riconoscimenti. L'esposizione, visibile fino al 26 gennaio, è ulteriormente arricchita da una serie di incontri di approfondimento aperti a tutti, dedicati agli artisti e all'ambiente letterario novecentesco, a cura di Giovanni Ricci. L'ingresso è libero, con apertura dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.30.